E sono rimasti lì fino ad oggi, tutti soli, a meno che gli uccelli non si posino su di loro. Difatti, i troll, come forse sapete, debbono trovarsi sottoterra prima dell'alba, altrimenti tornano alla materia pietrosa di cui sono fatti e non si muovono più. Questo è quanto era accaduto a Berto, Maso e Guglielmo. Ottimo, disse Gandalf, mentre avanzava da dietro un albero e aiutava Bilbo a scendere dal cespuglio spinoso. Allora, Bilbo capì. Era stata la voce dello stregone a indurre i troll a litigare e picchiarsi finché non era arrivata la luce a mettere fine a tutto. L'operazione successiva consistette nello slegare i sacchi e far uscire i nani. Erano quasi soffocati e molto seccati. Non avevano per nulla gradito di star lì per terra ad ascoltare i troll che facevano piani per arrostirli, schiacciarli o tritarli. Dovettero sentire il resoconto di Bilbo sull'accaduto almeno due volte, prima di essere soddisfatti. Che insulso scegliere un momento così per esercitarsi a rubare e borseggiare, disse Bombur. Quando ciò che volevamo era un fuoco e del cibo. Ed è proprio quello che, senza lottare, non avreste mai ottenuto da questi bei tipi, disse Gandalf. Comunque adesso state perdendo tempo. Com'è possibile che non vi rendiate conto che i troll dovevano avere una grotta o una caverna qui vicino, dove sottrarsi alla vista del sole? Dobbiamo andare a farvi una visitina. Ispezionarono tutto intorno. E presto trovarono impronte di pietrosi stivali di troll che si allontanavano in mezzo agli alberi. Seguirono le tracce su per la collina finché arrivarono a una grossa porta di pietra nascosta tra i cespugli che chiudeva una grotta. Ma non riuscirono ad aprirla, benché spingessero tutti mentre Gandalf provava vari incantesimi. Eh, questa potrebbe servire a qualcosa? Domandò Bilbo. Quando tutti erano ormai stanchi e irritati. L'ho trovata per terra dove i troll si sono azzuffati. E tirò fuori una chiave abbastanza grossa. Anche se Guglielmo l'avrebbe senza dubbio giudicata molto piccola e segreta. Doveva essergli caduta di tasca molto opportunatamente prima che fosse tramutato in pietra. E perché non ce ne hai parlato prima? Tutti gridarono. Gandalf la afferrò e la infilò nella serratura. Allora la porta di pietra si spalancò con una spinta poderosa ed entrarono tutti. C'era una ossa sul pavimento e un odore sgradevole nell'aria. Ma c'era anche una grande quantità di cibo gettato alla rinfusa su alcuni scaffali e sul terreno e, in gran disordine, il bottino di molte rapine. C'era di tutto. Bottoni d'ottone, pentole piene di monete d'oro che stavano in un angolo. C'erano anche molti vestiti. Appesi alle pareti, troppo piccoli per i troll. Temo che appartenessero alle loro vittime. E in mezzo a essi molte spade di varia fattura, forma e dimensione. Due attrassero particolarmente il loro sguardo per le loro belle guaine e le else tempestate di gemme. Gandalf e Thorin ne presero una per uno e Bilbo afferrò un coltello in una custodia di pelle. Per un troll sarebbe stato al massimo un coltellino tascabile, ma per lo hobbit era buono quanto una spada corta. Sembrano buone lame, disse lo stregone, estraendole a mezzo e osservandole con curiosità. Non sono state fatte da un troll, né da un fabbro tra gli uomini di queste zone e di questi tempi. Ma quando potremo leggere alle rune incise su di esse, sapremo di più sul loro conto. Usciamo da questa puzza terribile, disse Philly. Così portarono fuori le pentole con le monete e il cibo che sembrava intatto e buono da mangiare. Oltre a un barile di birra chiara che era ancora pieno. A quel punto avevano un bisogno assoluto di fare colazione. Ed essendo affamatissimi, non arricciarono il naso davanti a quel che si erano procurati dalla dispensa dei troll. Le loro provviste personali erano molto scarse. Adesso avevano pane e formaggio, birra in abbondanza e pancetta da arrostire sulle braci. Dopodiché dormirono, perché la notte era stata movimentata. E non fecero altro fino al pomeriggio. Poi andarono a prendere i loro poni e portarono via le pentole con loro. E li seppellirono molto segretamente non lontano dal sentiero vicino al fiume. Facendoci sopra moltissimi incantesimi, nel caso fossero riusciti a tornare a riprenderle. Quando questo fu fatto, rimontarono tutti in sella e ripresero ad avanzare caracollando sul sentiero verso oriente. Dove eri andato, se non sono indiscreto? Disse Thorin a Gandalf mentre cavalcavano. A guardare più avanti, egli disse. E cosa ti ha portato indietro all'ultimo minuto? L'aver guardato indietro, gli disse. Chiarissimo, disse Thorin. Ma non potresti essere più esplicito? Andai avanti a perlustrare la nostra strada. Presto diventerà pericolosa e difficile. Inoltre, ero ansioso di rifornire la nostra piccola scorta di provviste. Comunque, non ero andato molto lontano, quando incontrai un paio di miei amici di Gran Burrone. Dov'è? Domandò Bilbo. Non interrompere, disse Gandalf. Ci arriverete tra pochi giorni, se siamo fortunati. Scoprirete tutto al riguardo. Come dicevo, incontrai due amici appartenenti al popolo di Erlond. Se ne andavano di corsa per paura dei troll. Furono loro a dirmi che tre di essi erano scesi dalle montagne e si erano sistemati nei boschi non lontani dalla strada. Avevano suscitato un tale terrore che la contrada si era spopolata e tendevano a guati agli stranieri. Ebbi immediatamente la sensazione che fosse necessario tornare da voi. Guardando indietro viti un fuoco in lontananza e mi ci diressi. Così, adesso sapete tutto. E per piacere, state più attenti la prossima volta o non raggiungeremo mai la nostra meta. Grazie, disse Thorin.